Ben ragazzi, non mi sono mai ritrovati nel mio canale, siamo nel quinto, dovrebbe essere il quinto episodio di Bioshock 1 E, raga, vi invito come sempre a lasciare un mi piace e un commento e iscrivervi al canale Se non l'avete ancora fatto, signori l'ultimo episodio ho sbagliato, vi dico la verità, ho sbagliato, ho ucciso Big Daddy alla fine E poteva venirmi comodo, diciamo Però, oh cavolo Raga, non ho salvato l'ultima volta, mi sa Ma non c'è il save automatico, Cristo Santo Ok, vabbè raga, allora adesso possiamo tornare dove eravamo rimasti e non uccidere Big Daddy ma a farcelo nostro Però dobbiamo avere il potere di, il plasmide, di prendere Big Daddy, che non ce l'abbiamo, adesso dobbiamo mettercelo Ok ragazzi, questo qua è il mio Big Daddy, quello che abbiamo ucciso l'altro giorno E adesso questo diventa mio Ciao Bomber Andiamo, forza ragazzi Io sono la tua sorellina adesso Mamma mia, raga io spero che dure abbastanza sta cosa Vabbè che comunque poi dopo, se tutti li attaccano lo uccidi lui Non voglio ucciderlo io Ok, intanto raga Ok Oh merda, ho sbagliato Eh vabbè Ah, sapete cosa vi dico qua? Uno, due, tre Vaffa a culo Merde Ah, merde Che cazzo è successo? Oh merda Ragazzi, stavo a morire malissimo proprio Ok Forse mi ha lanciato un qualcosa che non ho notato Allora eravamo arrivati qua, raga Questo è il mio fidelo amico, ragazzi Guardate che figlio che è Oh merda Vai big daddy, pensaci tu Bravissimo Non ci voleva sinceramente sta cosa dell'allarme Recuperiamo un esemplare di rosa Andiamo, dai Forza Da qua non eravamo ancora passati E basta Ha schifoso Madonna raga, che cazzo ho fatto Questi amoggetti Non c'è, vero Quattro Tre Due Uno Ok No, ho sbagliato Dai cazzo però Non posso sprecare così la roba Santo Dio Vaffa Ragazzi, ho giocato bene fino adesso E sto giocando male Non va bene così Allora Andiamo a prendere la rosa Oh schifoso Come cazzo facciamo ad andare per di là Eh sì, si può Si può Però mi sa che il mio big daddy rimane qua, raga Dov'è il nemico? Ah, schifoso Che cazzo succede? Vabbè Vabbè Io vado per di qua Che mi sembra abbastanza interessante Come posto Baule Cerchiamo Non c'è un cazzo Che che fischia? Vi sembra Vi sembra il momento giusto per fischietare? E mi sto a cagare sotto? Che poi non è neanche tanto vero Però Sono un po' in ansia Sinceramente Eccolo Schifoso Di merda Bastardo Vabbè È morto Questo non è più mio amico, raga Tanto però tu mi continui a seguire Continuami a seguire, zio Così mi aiuti Ok Ok, guardate quante ne ha uccise la mia macchinetta qua, raga Ok Minchia, raga Abbiamo sprecato un sacco di roba In pochissimo tempo Ok Quello serve a me Andiamo per di qua Là ci sono delle munizioni Ma non vorre Mi do fuoco a tutti Merde Ok Siete morti Bastardi Cosa c'è qua? Fuga sicura Ma fazzioni del rivale Ha pensato Le telecamere di sicurezza Torrette proprio dove devi andare tu Fuga sicura Modifica la traccia termica Dello strato epidermico Confondendo le telecamere Le torrette E ritardando la reazione Non male Gabi Sguerete Ok la metto qua Ok Le rose dove sono raga Oh cazzo No Dovemmo metterla a posto Vai Occhio Ok Oh cazzo Ci serve La roba di origine Ok Ok Non qua Merde Pure la telecamere Big Daddy E lei va di dar cazzo No Ah si Oh Regà ma perché non si distrugge Sto coso Non c'ho più Eevee Santo Dio Ok Mamma mia Cazzo questi li odio raga Questi sono difficili Quelli che partono subito così Allora uno Due Ok Perdiamo questo Andiamo di qua Sperando che non ci sia Una bruttissima interruzione Andiamo di qua Di qua Poi Di qua E Eccolo 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 No Qua E qua Ok Ora sei mia torretta Big Daddy però se n'è andato Raga Però adesso sinceramente Non è che mi serva tanto Massimo dopo Cazzo ci sono due torrette No che mi serve tantissimo C'è no in realtà mi serve però Sti cazzi Allora le rose sono qua Ok la rosa l'ho presa E raga però adesso C'è un problema Se adesso arrivano in massa ad uccidermi Perché ho preso la rosa Come in questo caso Mamma mia schifo Oh raga sono morto Dammi tutti i meli che ti prego Oh merda Dai raga ma c'era una macchina così Che mi stavo uccidendo Mamma che sfiga Ok Fa niente La rosa ce l'abbiamo raga Quindi sti cazzi Abbiamo anche Ovviamente non possiamo Non abbiamo tanta roba da Faccio di nuovo Oh merda proprio No raga Non riesco Non riesco adesso Adesso non riesco Ok grazie Ma va fa culo Oh ancora vivo sei Ma mi serve un cazzo di kit Medico Cioè non ci vuole tanto Parliamo intanto L'elettroscarica Che ce l'abbiamo maxata Non c'è un cazzo di negozio Di kit medici Che secondo me Sono pieno di sordi Sì Ok Adesso cosa devo fare Schiavetto Dai Ah no Ok Uh Acher esperto Tonico genetico originale Di hack smart Esperto Attiva gli allarmi Disattiva gli allarmi Aiuta a evitare i sovraccarichi Il tonico fondamentale Della linea hack smart Ah Questo qua dai Ok Schedario No palma Ok Ragazzi c'è Era pieno di kit medici all'inizio Adesso non ce n'è più neanche uno Qua per forza uno ce ne deve essere Dai Ok vabbè Qua intanto Ci curiamo Cazzo c'è 200 dollari Santo Dio Questo è mio Qua non c'è niente Interessante Cos'è che spara Qua c'è una camera della vita E sta cosa non è che mi Oh qua c'è qualcosa Aspettate Che è l'inglese Raccogli Perché sta C'è un countdown La raga Cinque Ok Adesso c'ho cinque Non c'era lì Vi peccato Non l'ho visto almeno Sono abbastanza Di fatto Perché quella roba lì Mi ha messo un po' d'ansia 200 secondi Non so cosa sia Sinceramente Oh Oh Ecco la uccide raga E' morta raga Morta un botto Che scrive Un codice 945 7 Mi dispiace Mi dispiace zia Ho il vettore Lazarus Oh Abbiamo una nuova arma raga Lancia fiamma il chimico Ottimo Che divi Qua dovrebbe essere Il pieno di roba raga Eh aspettate 9 457 Allora 9 4 5 7 Formula del vettore Lazarus Chiave del mercato 27 dollari Che gusto c'è ad essere un genio Se l'unica gente in grado di apprezzarlo È una massa di cretini ricombinanti Invento ma Possiamo fare questo qua Ok Un bocciolo di rosa gallica Per confermare la mia analisi Eh c'è Un po' di clorofilla Ed enzini estratti da apis melifera Eh Va bene tesorini Bava di ape da miele Obiettivo multiple Problema per visualizzare gli obiettivi La struttura di tutte le missioni collattiva La freccia e la mappa ti aiuteranno A raggiungere la tua missione attiva Inventa il vettore Lazarus Allora Andiamo a inventare il vettore Lazarus raga Allora Nessuna missione attiva come Perché cosa vuol dire Aspetta Dove è l'invento Matt Però raga Che cazzo sa che ci serve Se magari mi dessero La Soluzione a cosa mi manca Sinceramente mi sarebbe molto piaciuto Vabbè Però dovrebbe essere qua da qualche parte Allora Ok Trova acqua distillata Trova sette campioni di enzime Trova sette soluzioni di clorofilla Ok Raga Dobbiamo andare alla ricerca di sta roba Raga sto andando avanti intanto eh Cioè stavo cercando le cose E siamo intanto arrivati a Farmer's Market Eh diciamo che questa sottomissione Cioè questa missione che c'è in più durerà un pelino di più del previsto Perché comunque dobbiamo trovare dei materiali che sono abbastanza rari Stavolano in giro per La mappa La zona Oppure nei cadaveri dei nemici che uccidi Intanto nel frattempo ho ucciso anche un altro Big Daddy Non è stato difficilissimo E niente Adesso vediamo Che cosa succede Il salvataggio in corso Sperando che Adesso che tra un po' finisco Che forse lo divido in due parti Questo video lo registro un po' adesso Un po' dopo Perché adesso devo andare via Avevo calcolato male i tempi Con il fatto che non si è Salvata Ecco siamo a Farmer's Market Cerchiamo il campione d'enzima Vedete qua siamo uno su sette Cioè per dirvi Questo qua durerà veramente tantissimo Ok Vedi che figata però raga Stamentazione qua mi piace tantissimo Ho potenziato la pistola Merda che cazzo è Guarda la pistola Si è forte raga Con tre colpi ammazza uno Oh cazzo Aggiriamolo Veloce Gabby Square Questi fan schifo eh Dobbiamo trovarne uno dritto Qua Ottimo Dai Uno Oh cazzo No 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 Un altro dritto Un altro dritto Si vado a trovare un altro dritto raga Qua 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 Ce ne serve un altro L'ultimo zio Dai Ok Ok Oh cazzo raga ce l'abbiamo quasi fatta Ce ne serve un altro dritto Che non c'è Qua 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 Ottimo Mamma mia raga che culo Ora C'ho quella torretta lei a mia Oh c'è un altro plasmide qua Ivi A2 Bottini più Ivi dai kit medico Usando il nuovissimo Ivi A2 Sì qua Ottimo Bene 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 Kit medico Ivi Ok Non è un tomat Cosa possiamo inventare Però adesso Non ci serve un cazzo Praticamente Se trovassi una macchina Che mi Dà la vita Facciamo big daddy Raga qui ci sono cattivi Infestati Anche difficili da uccidere Sono abbastanza scomodi questi Ci prendiamo una valla pistola Esce off Che c'è raga Che c'è ragazzuoli Mi fai Mi chiusa Ok Perfetto No peccato cazzo dovevo Qua c'è l'acqua distillata Una su sette Bene Ah questi qua Sono quelli legati a un Oh cazzo Scusate raga Che sto un attimo a far casino Forse dovevo potenziarmi Anche il mitragliettore Perché c'è un po' più di Un esplosivo dai Va bene Dovevo forse potenziarmi Il mitragliettore Perché c'è un pelino più di munizioni Vabbè Qua mi c'è un codice Si può aggirare Aggiriamolo Proviamoci Oh raga va fortissimo Non ce la farò mai Forza forza Come on come on No raga Troppo un vantaggio La macchina è cortocircuito Perché Stiamo matti Oh 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 L'abbiamo già fatto raga Occio eh Un vantaggissimo Ok qua Qua Uno dritto Qua Perfetto Abbiamo aggirato ragazzi Vediamo cosa c'è qui Allora Napalm Ottimo Già elettronico Sigarette Cassa di munizioni Dollari Io non vedo l'ora anche di sbloccare La spara chiodi Secondo me c'è la spara chiodi In questo gioco Non mi ricordo sinceramente Però È l'arma del big dead In pratica Però Io ho stato un coglione Che ho usato il kit medico E qua ovviamente c'era Il La macchinetta Che cercavo prima Vedete Bene Grande Gabi Squared Bravissimo Gabi Squared Allora Là c'è un big dead Ok No 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 Occhio Proviamo il caffè Qualcuno ha detto il caffè Dai salta Cristo santo Distributore Kit medico Quello che mi ha spiegato prima Napalm È andato lì Da solo se aggiriamo Ha rotto il cazzo Macchinetta di merda Vaga il big dead Adesso non me la sento Sinceramente di affrontarlo Affrontiamo magari dopo Tanto comunque ci torniamo E lo incontreremo di sicuro Ok E qui qua Questo è durato molto Devo dire Snack energetico Allora Abbiamo 200 Uh lo sciame È bellissimo Raga lo sciame Un'ora di insetti punzente Attenzione Se si consiglia Utilizzati soggetti allergici All Incenerimento Non lo uso mai Raga Però comunque Ci può sempre servire Ma adesso ho notato Che Oh I gasmi di consumo Meno ivi Fuga sicura dai Invitatore all'armi Corazzo Neregi alimentari Labo con Bomba Va bene così Alveare Vedete qua ci ha messo Proprio anche tutta la labo Della alveare Che figata Ok Allora Snack energetico La maniamo Comandi del fumo Ok Proviamo ad utilizzare Vedete qua Siamo proprio in un'alveare Raga Napa Raga Sapete che cosa Qua Me la ricordo Stalo Che Secondo me Qua ci sono I campini Mi sa Che si fa E pieno Siamo stati in un covo di Guarda che figata lo sciame Eh bello forte E' bello che a me non fa Aia Non dovrebbe falca Si Sta puttana che mi ha toccato Sto strozo Cos'è 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 raga sto coso Campini di enzima Dai 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 4 su 7 Ragazzi C'è la gente Che continua a spararmi Ma da dove Oh Che succede Merde Cos'è che mi sta uccidendo Raga Cos'è che mi ha ucciso Ma sono le api Cos'è che mi ha ucciso Raga Ma va Vaffanculo Vaffanculo va Ho già morto Dai però Cazzarola Che sfiga Ma che cazzà che mi ha ucciso Merda Che è successo Va a cagare Basta Nooo Ma va a cagare Ragazzi io devo scappare Mi dispiace tantissimo Non so quanto è Nel caso comunque Se dura poco In fase di editing Aggiungerò Dei pezzi Qua In questo momento Quindi Se vedete che il video continua Andate avanti Bella Alla